Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con una notizia appena arrivata in redazione l'incendio di un'auto nel parcheggio del Palaestra ad Arezzo. Il caso è ancora da chiarire, soprattutto le cause dell'incendio che hanno mandato letteralmente in fumo, questa auto parcheggiata sembra una utilitaria sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco. Un atto vandalico in Piano Centro è accaduto invece ieri sera dopo le 20 ad Arezzo, c'è stato un forte boato e poi una vetrata che è andata in Frantumi. È accaduto in via Guidomonaco, l'ufficio che ospita lo studio legale di Luca Fanfani, noto avvocato e figlio anche dell'ex sindaco di Arezzo. Nello stesso palazzo c'è anche la sede delle Acli Aretine, tutto è accaduto come dicevamo intorno alle 20, in questo orario appunto si sarebbe consumato quello che per il momento viene classificato come un atto vandalico. Adesso invece parliamo delle rapine agli orafi, i colpi inferti al settore sono sempre più cruenti e importanti. Ieri c'è stato un incontro presso la prefettura di Arezzo. Qui è una successione di eventi drammatici, quindi li viviamo con apprezzione. Andrà a mio avviso in qualche modo fronteggiata, senza aspettare che poi questo risucceda di nuovo. Queste le richieste degli orafi Aretini, un coro unanime per chiedere più sicurezza. Un appello che adesso è stato raccolto dal prefetto di Arezzo che ha incontrato i rappresentanti del settore per delineare le strategie da mettere in campo. Sono stati innanzitutto richiamati quelli che sono i comportamenti prudenziali da adottare, per cui laddove non ci fossero adottare comunque delle misure di sicurezza passive in modo da contrastare sicuramente quelle che sono le iniziative di questo genere. E poi anche tutte le azioni messe in campo attraverso l'intervento delle forze dell'ordine e quindi la pianificazione dei controlli del territorio adotteremo alcune precauzioni e alcune attività mirate per contrastare. Fondamentali poi saranno le telecamere per la videosorveglianza con verifiche su quelle esistenti e allargando il raggio d'azione sul territorio. Questo è un punto veramente strategico e importante sia in una fase preventiva che in una fase poi successiva di indagine e su questo c'è grandissima attenzione e si punterà a un sistema di totale efficienza. L'ultimo furto, un vero e proprio colpo da film, uno dei più grossi degli ultimi anni, era stato quello all'azienda Jessica Jewels di Ponticino che aveva fruttato ai ladri un bottino di circa mezzo milione di euro. Così era tornata prepotente la paura nel settore orafo che si era sentito preso di mira. Ma io questo non lo credo, non lo penso e di sicuro saranno messe in campo tutte le azioni per scongiurare. Si spostavano di distributore in distributore saccheggiando gli sportelli automatici nel loro peregrinare. Avrebbero fatto tappa anche ad Arezzo dove si stanno ancora svolgendo degli accertamenti per capire se e dove hanno colpito. Ma per quanto riguarda due furti messi a segno in provincia di Firenze, i due sono stati arrestati dai carabinieri. Si tratta di un italiano di 64 anni e di un domenicano di 36. È stato il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura, a emettere un'ordinanza di custodia cautelare nei loro confronti. E adesso torniamo a parlare invece del piccolo cagnolino, una barboncina per la precisione che è stata uccisa dopo l'attacco di altri cani di grossa taglia. Il tutto sarebbe avvenuto all'interno comunque di un'area privata. La notizia è stata poi diffusa dall'assessore alla tutela degli animali Giovanna Carlettini del Comune di Arezzo che sentiamo ai nostri microfoni. Io non mi stancherò mai di fare appelli tutti i giorni quasi, come sto facendo, ai proprietari dei cani perché questi cani devono stare al guinzaglio. Un barboncino è stato aggredito da un altro cane di taglia grossa e purtroppo è morto. È successo ad Arezzo e non si tratta del primo caso. Io non mi rendo conto come i proprietari di questi animali, dei cani, non capiscono questa problematica. Il cucciolo è stato aggredito da tre cani che in quel momento erano liberi. L'aggressione è avvenuta sotto gli occhi dei suoi proprietari. Per il povero cagnolino non c'è stato nulla da fare nonostante la disperata corsa dal veterinario. Non è responsabilità naturalmente dei cani perché ci sono dei cani che sono più predisposti ad attaccare essendo di grossa taglia. Ma la responsabilità è dei proprietari purtroppo. Abbiamo fatto anche dei corsi comportamentali per i proprietari dei cani. Adesso d'accordo con il comandante Poponcini raddoppieremo la vigilanza. La vigilanza nei parchi, nei parchi pubblici e anche la vigilanza in centro. E a questo punto ci saranno delle sanzioni. E mi auguro delle sanzioni anche abbastanza pesanti. Incidente domestico a Monte San Savino. Un uomo che stava bruciando all'aria aperta i residui di vegetazione è rimasto ustionato. Probabilmente a tradirlo un ritorno di fiamma sul posto. I sanitari del 118 che hanno allertato anche il Pegaso e i Carabinieri. Adesso invece parliamo di politica perché fa ancora discutere tutto quello che sta accadendo intorno alla nuova presidenza della provincia di Arezzo. Stavolta è proprio l'ex presidente della provincia di Arezzo Silvia Chiassai a rispondere ai contenuti della conferenza stampa di ieri del gruppo consigliare Patto Civico. Le mie dimissioni dalla presidenza del polo universitario aretino erano già state annunciate da un ex parlamentare. Mi sarei aspettata almeno un po' di preparazione. Silvia Chiassai risponde così a Marco Donati all'indomani della conferenza stampa in cui il gruppo consigliare metteva in dubbio la coerenza appunto rispetto alla presidenza del polo universitario aretino e anche il suo sviluppo. Ci colpisce in questo dibattito della provincia che si chieda in qualche modo le dimissioni del presidente o si contesti l'attuale presidenza però poi continuano ad essere coperti dei ruoli delle più importanti partecipate. Ora potete pensare come il polo universitario in cui la nomina dei membri del presidente della provincia possa coincidere con il ruolo dell'ex presidente della provincia e lancia strali sui giornali. Quindi coerenza vorrebbe per esempio che arrivassero alcune dimissioni da questo e da Arezzo Innovazione che sono le due partecipate più importanti che sono appannaggio di figure che non si riconoscono attualmente in questa presidenza. Questo territorio su dati la Camera di Commercio manca di figure professionali per alcuni tipi di imprese. Il polo universitario era nato non in contrapposizione al polo dell'universitario aretino legato all'università di Siena, al decentramento ma era nato proprio per collegare gli aspetti più professionali e professionalizzanti di una formazione che mirata al mercato del lavoro è più breve. Se non volge questa funzione o comunque è sotto scacco di una diatriba politica questo territorio rischia di perdere opportunità per i giovani e credo che questo non ce lo possiamo permettere. La sindaca di Montevarchi parla poi di quanto è avvenuto durante la sua presidenza negli ultimi tre anni afferma ha finalmente raggiunto un equilibrio economico e finanziario, spostato la sede dalla palazzina U2 in una struttura moderna e all'avanguardia e il dato più importante è l'aumento delle iscrizioni al corso di Ingegneria Informatica 68 gli studenti attivi, ottimi risultati anche per il Master in sviluppo ed internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. E poi la valutazione politica, mi preme rimarcare a Donati e ai suoi seguaci che per quanto mi riguarda posso camminare ogni giorno a testa alta sono una donna politicamente libera, fiera di aver svolto in quattro anni un lavoro enorme e importante per la provincia, orgogliosa di essere il sindaco di Montevarchi. Il resto è un disastro che loro hanno contribuito a realizzare e che ormai è sotto gli occhi di tutti. Conclusa la prima fase del monitoraggio dell'accessibilità degli spazi cittadini, in Arezzo dunque ormai parte della app Senza Barriere. Oltre 50 ragazzi coinvolti, 40 i luoghi pubblici mappati Senza Barriere è un'applicazione che permette agli utenti di trovare i punti di interesse del centro cittadino mostrandone appunto il livello di accessibilità rendendo così più facile e agevole la vita ai diversamente abili. E adesso invece parliamo del disagio giovanile, un tema molto sentito nella nostra città soprattutto dopo gli ultimi fatti di cronaca. Su richiesta della minoranza è stato convocato il Consiglio Comunale Aperto che appunto era stato richiesto peraltro anche da tante associazioni del territorio. Le persone potranno intervenire e dire la propria rispetto ai temi legati ai più giovani in questa città. Sappiamo che aumenta la maggiorità, la dispersione scolastica, alcuni episodi di bullismo e è arrivato forse il momento che le istituzioni si occupino seriamente di questo tema. Un Consiglio Comunale Aperto sul tema del disagio giovanile. La richiesta era arrivata dai banchi delle minoranze ed adesso è stata programmata la seduta. La data individuata è quella del 13 aprile in orario pomeridiano. Perché è necessario costruire delle reti, investire delle risorse. I nostri giovani hanno bisogno che questo territorio si accorga di più di loro e serve, come per esempio abbiamo fatto noi di Cielgarezzo, una proposta nel quale le risorse della Fondazione Guido d'Arezzo sulla cultura possono essere invece destinate a corsi, a iniziative e attività rivolte ai più giovani che gli consentono di integrarsi, di crescere culturalmente e quindi di dare spazio più alle loro virtù che magari invece a episodi di divisione proprio tra quei tanni che poi rischiano di portare a brutte esperienze. Gli interventi dovranno essere prenotati all'indirizzo email consigliocomunale.comune.arezzo.it entro venerdì 7 aprile. Sì, chiunque sia preoccupato oppure sia un operatore, un professionista abbia qualcosa da dire per migliorare questo territorio, la collettività e per dare attenzione ai più giovani è invitato a venire a questo Consiglio Unale per poter partecipare e aiutare tutti noi a contribuire meglio alla nostra città. Dopo 11 anni torna in provincia di Arezzo l'Assemblea regionale della Fratres domenica 26 marzo. La nostra città verrà raggiunta fin dalle prime ore del mattino da quasi 300 delegati degli altrettanti gruppi Fratres disseminati in tutta la regione, dalla Lunigiana al Grossetano, dal Pisano a tutta l'area fiorentina. I rappresentanti dei 26 gruppi aretini parteciperanno numerosi ai lavori assembleari per appunto condividere con il resto del movimento Fratres regionale considerazioni, analisi, difficoltà e risultati di un intero anno di lavoro. Capodanno dell'annunciazione, Arezzo da oggi e fino a domenica 26 marzo sarà invasa da tante iniziative che appunto riguardano questa data così particolare. Arezzo, capitale della rievocazione storica in occasione del Capodanno dell'Annunciazione, l'antica tradizione toscana reintrodotta nel 2015 dal Consiglio regionale che riporta in auge la consuetudine in vigore fino al 1749 di iniziare l'anno civile il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa Cattolica colloca la festa dell'Annunciazione che ad Arezzo si celebra ogni anno con la Festa dei Fiori. Noi conosciamo bene quella che è la storia della città di Arezzo, la storia della giostra l'importanza e la rilevanza che hanno i gruppi storici di Arezzo, i quartieri di Arezzo e l'organizzazione che è in grado di mettere in campo questa città per cui siamo stati ben contenti di poter accettare la candidatura della città e del Comune di Arezzo ad organizzare l'evento che rappresenta la rievocazione storica il Capodanno dell'Annunciazione che accomuna tutti i gruppi storici della regione toscana che verranno qui in oltre mille rievocatori per sfilare nella città di Arezzo e manifestare quella che è l'espressione della cultura immateriale tipica della nostra regione che rappresenta tutta la nostra regione nel mondo. 57 gruppi di rievocazione provenienti da tutta la Toscana che sfileranno sabato 25 marzo nel centro cittadino in una grande parata storica che si concluderà sul Sagrato del Duomo con lo schieramento di tutte le compagini e la consegna al governatore Eugenio Gianni dello scettro con il Pegaso realizzato dal maestro Francesco Conti che sarà da questa edizione in poi il simbolo del Capodanno dell'Annunciazione. Qualche disagio per la circolazione ma il meteo mette bene toccando ferro quindi venite in città a vedere questo corteo specialmente nel passaggio in Piazza Grande nell'arrivo sul Sagrato del Duomo perché sarà veramente uno spettacolo più unico che è raro. E allora tra il Capodanno dell'Annunciazione e tutte le varie iniziative appunto legate a questa manifestazione e poi anche la fiera della Santissima Annunziata che è un po' il là insomma alla stagione primaverile che ci sarà proprio domani ad Arezzo. Il centro sarà davvero in questo fine settimana off limits ad auto per ovviamente il traffico ma anche per la sosta. Ci sono tantissimi appunto divieti e modifiche al traffico e alla sosta. Sono cambiate anche alcune corse degli autobus quindi vi invitiamo insomma prima di mettervi in viaggio e di comunque raggiungere soprattutto il centro cittadino di controllare come dicevamo le varie modifiche in questo fine settimana davvero da bollino rosso per il traffico aretino. Siamo alla pagina della cultura. Antonio Rezza e Flavia Mastrella hanno portato in scena al Petrarca di Arezzo il loro Ibris. Al Petrarca di Arezzo iscena la nuova dirompente creazione dei due artisti Antonio Rezza e Flavia Mastrella massimi esponenti del teatro di ricerca. La porta non ha né una stanza e ha perso completamente la sua utilità quindi si continua a usare la porta per quello che era e non per quello che è. Qua stai! A cui non ti trovavo! È mezz'ora che ti cerco! È l'unico posto dove non avrei mai guardato! È diabolica! È infernale a suo modo! Inimitabile combinato artistico del panorama teatrale contemporaneo il duo firma a quattro mani dal 1987 opere arriverenti divertenti surreali e cariche di energia in grado di colpire un pubblico ampio e soprattutto trasversale. Performe ed attore lui, artista e autrice lei. nel 2018 sono stati insegnati di leoni d'oro alla carriera per il teatro. Mamma, non ci conosciamo proprio, sono Toni con la J alla fine, Toni con la J alla fine, era quasi finita la parola, non appena faccio interveniremo di prenderci la J, pochissimo non sono donna. Sono Toni con la J alla fine, nuovo fidanzato di Chiara, spero l'ultimo, credo l'ultimo. È un lavoro di contaminazione più che altro, negli anni 80, in pochi se lo ricordano, c'era questa mania della contaminazione, io e Antonio siamo riusciti a portarla avanti, molti altri si sono poi rimessi sulla carreggiata sbagliata, cioè non hanno creduto nell'unione delle arti. Siamo allo sport, domenica prossima l'Amen Scuola Basket Arezzo sarà impegnata nel fortino della capolista Prato per provare a migliorare la classifica, servirà una super impresa. Domenica alle 18 appunto si giocherà l'undicesima giornata di ritorno del campionato di serie C-Gold alla palestra Toscanini di Prato, arbitri dell'incontro Rossetti di Rosignano Marittimo e Baldini di Castel Fiorentino. E chiudiamo la pagina sportiva con l'intervista del mister delle giovanili dell'Arezzo, parlando in questo caso di Viareggio Cap. Siamo stati bravi ragazzi, sono stati bravi perché non era semplice, perché c'è sempre una tensione nervosa altissima, dovevamo riscattarci dal passo falso della precedente, sono stati bravi, l'unico rammarico che abbiamo concretizzato poco. Adesso c'è da giocarsela il tutto per tutto nella prossima partita contro un avversario come la Sampdoria, però comunque si sapeva che il percorso di quest'Arezzo al Viareggio non era tanto, insomma il risultato finale era semmai proprio un percorso di crescita. Certo, perché non ci scordiamo mai che i nostri ragazzi sono rispetto agli altri uno o due anni più piccoli, giochiamo con i 2005, 2006 e pochissimi 2004, credo che è un traguardo anche questo, deve soltanto riguardare la crescita, la crescita c'è, andiamo a Genova per affrontare questa avventura e va bene così. Che sapore ha questa vittoria sapendo di aver scritto un piccolo pezzo di storia dell'Arezzo? Io dico che ogni panchina dell'Arezzo è una storia per me, è un'avventura e me la voglio godere tutta, perché poi quando ci entri traguardi come questo c'è ancora più contentezza. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi ringrazio per la cortese e attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie.